L'Auser, associazione di volontariato per l'autogestione dei servizi a favore delle persone anziane, non solo non va in vacanza, ma nei mesi estivi in provincia di Cuneo potenzia la sua attività. Noi siamo aperti tutto l'anno, anzi in agosto, sapendo che in agosto è uno dei periodi più critici per gli anziani perché i parenti e i figli vanno a mare con i nipotini, i vicini non ci sono, i negozi sono a mezzo chiuso, le farmacie bisogna andarla a cercare e quindi noi potenziamo il servizio. Infatti questo ufficio sarà aperto, questo telefono verde che è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12, quindi al 18 nel mese di agosto sarà ancora potenziato. A differenza delle grandi città in provincia di Cuneo, oltre a luglio ed agosto, i mesi più difficili sono quelli invernali, quando molti anziani restano isolati nelle località d'alta quota. Noi i mesi più difficili sono, è naturalmente agosto, ma è soprattutto l'inverno, però noi siamo attrezzati tutto l'anno, anzi noi invitiamo tutti gli anziani che avranno questi problemi a sentirci e noi saremo disponibili ad andare ad aiutare. Ricordiamo allora quali sono i servizi che porta avanti l'Auser e qual è il numero verde. Sì, il numero verde è 800995988, senza prefisso, per tutto il territorio del prefisso di Cuneo, 0171. Per gli anziani siamo disponibili, li portiamo in ospedale, andiamo a prendere i medici e le farmacie, li portiamo a noi, li portiamo la spesa a casa, chi ne ha bisogno, facciamo compagnia, chi deve fare due passi, ha bisogno di camminare un po'.